Ce l'avete mai pensato? Lo sapevate? Ce l'avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pillole di Bit. Questa è una puntata extra di Pillole di Bit, direi più un trailer di quel che uscirà nei prossimi 24 giorni. Io sono Francesco e da domani, alla vigilia di Natale 2019, vi porterò a passeggio per la storia dell'informatica, dal 1400 a oggi. Sì, non mi sono sbagliato, dal 1400. Una puntata al giorno, tutte le mattine, alla scoperta di 24 personaggi che hanno contribuito a fare del mondo quello che è oggi, nel settore dell'informatica e di internet. Persone più o meno famose, che ognuna a modo suo hanno lasciato un contributo indelebile e alle quali dovremmo dire grazie. Ok, vabbè, forse non proprio a tutte. Saranno puntate brevi, senza un particolare approfondimento, che lascio fare a voi. Il web è pieno di informazioni e, se volete, ci sono libri e film di ogni genere a riguardo su tutti i personaggi. Studiando tutta la storia mi sono reso conto che due cose sono costanti, fin dai tempi più antichi. La prima è l'immaginazione, che ha spinto le persone a provare ad inventare macchinari, dispositivi, software, che prima nessuno si era neanche sognato di realizzare. La seconda è che il mondo è piccolo, molto piccolo. Ho trovato collegamenti di persone nate agli antipodi del mondo e che si sono incontrate, spesso in quella che è poi diventata la Silicon Valley. Ad esempio, non sapevo che ci fosse un collegamento tra Steve Jobs, la Atari, Wozniak e la HP, tra gli altri. Sicuramente 24 persone sono poche, la storia dell'informatica è stata fatta da centinaia di persone, le più sconosciute a tutti, ma che magari hanno fatto passi piccoli e fondamentali. Non solo i passi sulla Luna sono stati piccoli per un uomo e grandi per l'umanità, anche sulla Terra e sicuramente sono più di quelli che ci immaginiamo. Dai, come trailer direi che è durato anche troppo. Non mi resta che darvi appuntamento a domani, dalle 4 del mattino, una volta al giorno, nel feed del podcast al quale siete già abbonati. Buon ascolto!